Riesce, anzi per Mungo che serve ora Ienco che se ne va in velocità, consueta accelerazione, penetrazione di Ienco, entra in aria, mette in mezzo Salvatore Procopio ed è lui, è un Procopio gol ma questa volta gli ha messo al 17esimo minuto di gioco un pallone d'oro. Montepaone 1, Bivongi 0, mister Pisano, uno di quei successi che forse sono importanti anche se sofferti fino alla fine, però l'1-0 forse dà più soddisfazione di un 4-5-0? No, a me sinceramente dà più soddisfazione quando la partita si chiude prima, abbiamo avuto diverse occasioni ancora una volta per chiuderla prima, la partita e non portarla negli ultimi minuti con l'ansia di dover rincorrere magari eventualmente un pareggio loro e quindi non abbiamo concesso praticamente niente visto che il nostro portiere Lombardo non ha fatto neanche una parata, anzi forse una verso la fine su quel tiro di Ridge, però sostanzialmente credo che non dobbiamo correggere alcune cose perché non va bene così, dobbiamo chiuderle prima queste partite e non possiamo tirarle fino alla fine. In telecrolaca abbiamo visto forse un mister Pisano modello Allegri nel finale del primo tempo che è rientrato prima negli spogliatoi o era semplicemente un'impressione alla tribuna? Sono rientrato, sapevo che stava per fischiare perché aveva chiamato un minuto di recupero quindi stava per fischiare, sì ero semplicemente impaziente di dover dire quello che pensavo ai ragazzi di un primo tempo che secondo me non può finire un a zero perché siamo stati padroni del campo nei primi 30 minuti e aver fatto solo un gol mi sembra un peccato anche perché non si possono dominare gli avversari, gli avversari si possono dominare per 30 minuti, 40 minuti, 50 minuti dopodiché tu devi concedere per forza qualcosa come è successo domenica scorsa a Serra ma vedo che la lezione non è servita perché da questo punto di vista bisogna migliorare tantissimo. E un'ultima notazione, forse la cosa più bella della partita è il gol annullato a Procopio perché fuori gioco o non fuori gioco è stato un destro meraviglioso su un'imbeccata splendida di Domenico Voci. Lì probabilmente abbiamo la cosa più bella e la cosa più brutta della partita in una sola azione perché sicuramente abbiamo un grandissimo gol di Salvatore Procopio e nello stesso tempo abbiamo chi secondo me l'ha condizionata in particolare in modo cioè l'arbitro perché se perdo non parlo mai degli arbitri. Se vinco e non vedo un arbitraggio all'altezza lo devo dire anche per una questione di correttezza nei confronti di chi ha visto la gara e credo che abbia visto dei fuorigiochi e delle situazioni di gioco a dir poco imbarazzanti perché fuorigiochi con gente che partiva 10 metri dietro è la prima volta che mi succede di vederlo in vita mia ma ha sbagliato a favore di nessuno intendiamoci però secondo me ha discapito dello spettacolo perché il gioco è stato molto spezzettato. Noi comunque oggi ci tenevamo a dedicare questa vittoria al piccolo Tommaso che è venuto a mancare qualche giorno fa ed era un iscritto del Montepone e ci tenevamo particolarmente perché volevamo dedicare a lui questa vittoria. E consentitemi un po' di emozione l'intervistare il fantasista di stilo un uomo al quale sono legato per tante vicende calcistiche che non sto qui a dirvi innanzitutto mister complimenti per il Bivongi, mister calciatore ma comunque sempre uno che lavora bene. Grazie, penso che abbiamo fatto un'ottima partita contro il Montepone che sapevamo che gioca bene al calcio forse potevamo anche pareggiare però alla fine va bene così. E comunque c'è stato agonismo ma alla fine fair play cioè una partita tosta però alla fine vi siete abbracciati tutti. Sì, sì sicuramente anche perché ci conosciamo tutti e quindi è giusto così. In campo ci sta di combattere, ognuno tenta di portare il risultato per la propria squadra però a fine partita è giusto che ci dobbiamo salutare tutti. Il Bivongi ha vinto tre partite in casa e quindi è lì che si costruisce il campionato di questa squadra? Penso di sì anche se speravamo di raccogliere qualche punto oggi però in casa è il nostro campo e quindi dobbiamo raccogliere più punti possibili. In tribuna stampa abbiamo dato la sufficienza anche abbondante all'arbitro. Mister Pisano invece ha detto che ha fatto qualche errore e allora sentiamo il parere di Mister Condemi. Qualche errore forse l'ha fatto perché su un fuorigioco che è arrivato Ugo Riggio da dietro era solo davanti alla porta lui ha chiamato il fuorigioco che secondo me non c'era però ormai è andata così.